Effettuato l'accesso sul portale del SUET, per poter compiere una rinuncia pratica, sarà necessario recarsi nell'elenco pratiche, individuare la pratica di riferimento, cliccare su Apri pratica, cliccare su Invia nuova comunicazione, individuare il destinatario della comunicazione, quindi ad esempio il municipio di Roma, cliccare su Aggiungi destinatario, selezionare Tipologia di comunicazione formale, Conferma, e individuare all'interno del menu a tendina la tipologia di comunicazione, quindi in questo caso comunicazione di rinuncia pratica. È possibile aggiungere ulteriori note e procedere così con l'invia. Possiamo notare che la comunicazione è stata inviata con successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.